La Cade di Aul apre al pubblico, alla presenza del governatore Attilio Fontane e dell'assessore regionale del turismo Lara Magoni, taglio del nastro a Bellano per la nuova attrazione inserita nel complesso dell'Orido. L'esalente inizio 800, l'edificio costruito su uno sperone di roccia, la cui storia è avvolta da leggende e misteri anche grazie all'immagine del demonio dipinta sulle mura esterne. La Cade di Aul è stata completamente restaurata e porterà ulteriore prestigio ai visitatori alla meraviglia naturalistica di Bellano. Importante quanto è importante e storica questa giornata per noi, finalmente apre i battenti la Cade di Aul mai aperta al pubblico, questa torre leggendaria, epica, l'abbiamo restaurata e adesso al suo interno è pronta a svelare delle meraviglie multimediali ed emozionali, tant'è che l'abbiamo chiamata la Torre delle Emozioni. L'amministrazione di Bellano è proprio una delle amministrazioni esempio di quanto tenacia, determinazione, possano dare risultati. Siamo orgogliosi davvero di essere qui oggi. La Cade di Aul è un'esperienza davvero fantastica ed è una strategia che porta beneficio a tutto il nostro territorio perché fa conoscere la sponda lecchese del lago di Como e sicuramente porterà beneficio a tutto il nostro territorio. Quindi grazie ancora all'amministrazione di Bellano per il lavoro che sta facendo.